adesso iniziamo e stavo facendo un po di sperimentazioni questi filtri e qua vado a fuoco no vabbè dai non usiamo questi filtri terribili ok allora sia qui su youtube che su instagram intanto benvenuto anche the witch project scusate mi arrivano i messaggi che proprio adesso dunque notizia di servizio vi invito tutte e tutti mercoledì 12 maggio a questo seminario gratuito che farò sul tema interpretare i sogni 22 tecniche ispirate ai tarocchi seminario gratuito basta che inviate un messaggio un email e parleremo di come si possono imparare delle tecniche per approcciare il mondo dei sogni dell'interpretazione dei sogni ispirandoci proprio al linguaggio dei tarocchi è una variante di unirottorologia se volete anche questa non parleremo di tecnica di unirottorologia nello specifico ma più che altro è un po una carrellata degli arcani maggiori a caccia di tecniche quindi 22 tecniche ciascuna ispirata ad un arcano maggiore un po in questa e nella diretta che ho fatto precedentemente c'è questo approccio cioè vado a cercare nei tarocchi alcune tecniche appunto basandomi sulla simbologia di un particolare arcano maggiore quindi non in questo caso non vado a decodificare un sogno costruendo una sequenza di tarocchi come la tecnica di unirottorologia piuttosto mi faccio consigliare delle tecniche per interpretare i sogni utilizzando il linguaggio dei tarocchi e allora l'altra volta se ricordate comunque sempre tutto registrato la puntata precedente due post fa in realtà nella mia bacheca avevamo parlato dei luoghi dell'eterno ritorno all'interno dei sogni quindi quei luoghi dove continuiamo a ritornare in vari episodi onirici una caratteristica di quei luoghi però era di essere luoghi molto tristi luoghi abbandonati o luoghi dove si respira quest'idea di cose che abbiamo perso cose che non ci sono più e che come l'eremita come avevamo visto l'altra volta cerchiamo di tornare ad illuminare o a ripescare perché perché avevamo visto andava a cercare qualcosa dalla giustizia aveva perso qualcosa oppure voleva recuperare un po questo equilibrio che era stato compromesso in qualche modo avendo tolto o aggiunto cose ai piatti della bilancia saluto anche marta che ci siamo viste prima in realtà direttamente a rimini mi è venuto mi è venuta trovare quindi è stato un vero piacere e quindi dirò tra l'altro alcune cose che avevamo così condiviso anche prima chiacchierando di fronte a un caffè e allora parliamo invece oggi dei luoghi invece magici luoghi magici del sogno cosa intendo personalmente attingo alla mia esperienza naturalmente no però penso credo che anche nel caso di altre persone capiti questa situazione cioè cosa cosa sono questi luoghi magici del sogno sono degli ambienti favolosi favolistici e commoventi oserei dire infatti il tratto comune che io ho evidenzierei in questi tipi di sogni personalmente è che sono proprio commoventi luoghi strazianti ma nel senso buono nel senso positivo nel senso che al risveglio dici cavolo quanto era bello era meraviglioso questo sogno e all'interno del sogno spesso mi capita proprio di piangere rispetto alla bellezza di questi luoghi no e quindi questo è un tratto comune di essere talmente potenti da toccarti dentro nel tuo profondo questi luoghi della luoghi magici nella mia vita personale sono un po cambiati ma non è cambiata questa aura di magia no mi ricordo che a tanti anni fa questo luogo magico del sogno era londra per me cioè io mi immaginavo di fare queste vacanze in questa città che quando ero più giovane per me era un mito l'idea di andare ad abitare a londra però al di là di questo evento oggettivo nel sogno chiaramente era una londra onirica era una londra meravigliosa che appunto mi suscitava questa grande commozione ma attenzione commozione gioiosa cioè erano lacrime di gioia perché mi sentivo effettivamente nel luogo dove avrei voluto vivere ultimamente mi capita invece che questi sogni questi luoghi magici sono più un mix strano sono dei luoghi che fondono in parte un'ambientazione molto metropolitana molto new yorkese mi verrebbe da dire ma si fonde questo contesto grigio se volete anche notturno con invece una spiaggia meravigliosa una spiaggia paradisiaca vi invito a scrivermi in chat se se vi va di condividere il vostro luogo meraviglioso o se anche a voi capita di fare sogni con questo genere di situazione e allora l'idea qual è uno dice cosa vogliono dire questi sogni sono tutti un intreccio come dicevamo e come dicevamo anche oggi con marta no che è difficile andare esattamente a prendere il significato preciso di un certo sogno un significato anche univoco ed è anche bello che non sia così dicevamo oggi cioè bello che invece questi sogni abbiano sempre un'aura di mistero perché la dinamica sta proprio lì è come se questa matassa di significati è un gomitolo ma il gomitolo è vero è un un groviglio ma è una forma di palla quindi rotola quindi la matassa ha sempre una sua dinamicità un po come la palla del sé e però di nuovo proviamo a farci aiutare dai tarocchi su come approcciare questo genere di sogni domanda a tutti voi mentre guardate questa diretta anche registrata provate a pensare quale arcano maggiore riflette questo e questa situazione che vi ho provato a descrivere quindi un luogo magico un luogo straziante in senso buono un luogo dove ti senti veramente pieno ti senti completamente realizzato e oserei dire in una sorta di estasi paradisiaca quale arcano maggiore secondo voi descrive e sintetizza questo genere di ambientazione onirica vi do qualche minutino mentre intanto la mia assistente cipollina si vuole sempre far vedere anche lei per far vedere quanto è utile in queste dirette vabbè tanto so che lo sapete perché voi siete tutti esperti in tarocchi conto fino a 10 vediamo se qualcuno risponde 10 9 8 facciamo il countdown vabbè sono sicuro che quando lo lo rivedrete capirete qual è la l'arcano di riferimento lo facciamo vedere con grande mistero avete vista l'avete intravista la stella ok ecco la stella secondo me personalmente esprime tutte queste caratteristiche di cui parlavo perché abbiamo mettiamola così perché fa un po di riflessi abbiamo questo senso di fusione profonda con l'ambiente questi ambienti che ti entrano nell'anima e che hanno qualcosa più di di materno quasi sono sono quelle situazioni dove sei un tutt'uno con l'ambiente che ti circonda personalmente il fatto ecco il fatto anche magico legato a questi luoghi personalmente lo rivedo cioè lo vedo meglio incardinato in un arcano così notturno in realtà la stella potremmo anche dire che sia l'alba l'alba o il tramonto in realtà più propriamente sappiamo che questa figura lavora all'alba e l'alba esprime sempre di nuovo in modo molto personale riferito ai miei sogni quella fusione di cui parlavo perché cosa succede in effetti all'alba all'alba si fonde la notte con il giorno avviene in qualche modo una congiunzione del maschile del femminile all'alba perché magicamente abbiamo sia la notte quindi un clima lunare che il sole che sta per affacciarsi che sta per rinascere quindi questa fusione che nel mio caso era vi dicevo legata ad esempio alla situazione lunare di queste città notturne metropolitane piene di vita e di mistero e di magia perché la magia viene di notte viene col buio tipicamente però in queste città vi dicevo c'è anche personalmente questa atmosfera di queste spiagge meravigliose quindi anche lì è una sorta di fusione di questi due opposti potremmo dire e la stella in quanto albeggiante mi ricorda questa questo perfetto matrimonio marta dice i sogni che per me assumono queste caratteristiche sono ambientati di solito al mare o alle terme ecco sarà che noi siamo anche oggi parlavamo di mare no sicuramente il mare fa parte dei luoghi che viviamo in cui ci piace vivere io abito a Rimini no però è chiaro che ci deve essere anche un qualcosa di più perché ci piace così tanto il mare ecco ecco Barbara dice mi hai fatto venire voglia di guardare l'alba domattina al parco ecco prenditi dietro due vasetti di o di yogurt o non lo so di acqua per fare esattamente questo gesto magico che fa la stella benissimo allora come l'altra volta quindi abbiamo inquadrato un arcano maggiore di riferimento per descrivere una particolare situazione onirica c'è niente di più bello e di magico di questa stella la stella ha in sé anche questo concetto cosmico legato al 7 che ci riporta un po' al carro della prima decada ovvero una realizzazione data ad una missione che si è compiuta in sintonia con il nostro destino il nostro sé se vediamo questa stella più grande o più tradizionalmente in base al destino che è scritto per noi negli astri nel nostro tema natale e anche l'idea vi dicevo di questa malinconia ma bella queste lacrime che però producono ricchezza come se andassero a inumidire e a fertilizzare il terreno è anche espresso dal gesto di queste due anfore dalle quali sgorga un liquido creativo o un liquido che va a ripristinare un deserto che c'era precedentemente e qui mi unisco allora al discorso bene come l'altra volta facciamoci dire dai tarocchi quali possono essere delle tecniche per approcciare questo genere di sogni in altro modo cosa ci dice la stella perché facciamo dei sogni ispirati a questa stella cosa è successo prima perché c'è bisogno della stella ecco nella naturale sequenza dei tarocchi degli arcani maggiori prima della stella c'è stato un grande fulmine una grande torre che crolla una grande dispersione di materia di energie mentali corporee insomma qualunque genere di metafora di dispersione di distruzione e di disgregazione non le avevo messo nell'ordine giusto qui è asimmetrico ma sapete che la stella guarda sempre questa torre ok quindi già questa è una prima tecnica per così dire una prima ispirazione cioè se noi sogniamo la stella forse è perché il nostro meccanismo onirico ci vuole riassestare e riequilibrare dopo che abbiamo subito nella nostra vita una sorta di situazione torre quindi c'è stata una disgregazione o una discesa verso il basso anche drastica eravamo lassù belli sicuri protetti in questa bellissima torre a un certo punto per un evento anche apparentemente esteriore dobbiamo ripiombare giù a riguardare la terra a rifonderci con l'ambiente a riprendere contatto con gli strati più bassi del nostro terriccio inconscio o comunque delle parti più degli strati più profondi di noi quindi un viaggio verso il basso verso la terra ma anche verso la profondità ed ecco allora che quindi la stella è lì a dirci questi luoghi paradisiaci vogliono farti ritrovare il tuo personale paradiso terrestre dopo che la tua torre è caduta, è crollata e in qualche modo ci dice un bene che sia crollata questa torre ok è una prima ispirazione allora andiamo però di preciso a vedere cosa ci può dire la torre proviamo a contestualizzarla meglio quando è che accadono episodi ispirati alla maison d'ye nella nostra vita reale? io ho immaginato queste tre parole chiavi la prima è confusione confusione perché il 16 ci richiama anche un po' il 6 cioè quella fusione sul piano orizzontale ispirata alla carta dell'innamorato quindi quando siamo in una fase 6 gioia, bellezza, relazione con gli altri e fusione con gli altri perché per la prima volta con l'arcano 6 avviene un abbraccio sul piano orizzontale quindi si crea una sorta di massa indistinta può essere anche positivo la fusione in questo senso ma se questo 6 analizzando gli aspetti ombra degli arcani maggiori sale di livello e si va al 16 ecco che dalla fusione si passa alla confusione quindi il caos la confusione è data dal fatto che perdiamo la nostra identità la nostra individualità è il fenomeno negativo di essere troppo di vivere troppo immersi nella società cioè quando indubbiamente abbiamo una fusione di troppa massa come dire, troppe persone troppa gente che frequentiamo il rischio è sempre quello di perderci all'interno della massa quindi di non avere più un punto unificante che ci permette di scegliere o di pensare autonomamente e infatti il tema del 16 è questo l'unico punto, diciamo, centrale è questo sole o questa sorta di entità dalla quale si sprigiona il fulmine che non è assolutamente centrale anzi crea dispersione crea distruzione quindi il 17 visto così ci dice il luogo magico del sogno ti serve anche per recuperare il tuo terreno il tuo spazio personale, intimo così come è nuda la donna di solidità le radici del tuo sé insomma il tuo radicamento quindi le parole chiave quindi confusione ok un altro termine che mi ispira a questa immagine è quella di ecco tra l'altro confusione c'è anche la fusione cioè questo fuoco che immaginiamoci di vedere vivere questa immagine come in un film questo fuoco che parte dall'alto e piano piano si diffonde e ci fa bruciare dal di dentro quando è che avviene questo bruciare dal di dentro cioè è come se il fuoco divampasse all'interno di noi e questo può essere dato da varie situazioni la rabbia il rancore tutto ciò che viene accumulato dentro uno spazio chiuso prima o poi deve esplodere deve essere liberato cioè non è possibile che un contenitore cioè non è possibile vivere sempre dentro un contenitore uno spirito un moto interiore un moto dell'anima ma anche un pensiero un intelletto non potrà mai stare chiuso dentro una torre per cui quando tu accumuli accumuli rabbia rancori quando tutto questo si accumula prima o poi esplode la pentola si scoperchia e ancora una volta l'idea del luogo magico potrebbe essere una sorta di consolazione cioè un modo che ha il motore onirico per donarci di nuovo il sorriso donarci di nuovo la gioia a fronte di questa fusione a fonte di questo burnout per usare un termine più moderno ci siamo bruciati siamo andati un po' via di testa sempre con l'idea della torre che alla fine richiama anche il cervello o la mente che viene scoperchiata che viene colpita da questo fulmine un'altra parola chiave me l'ho segnata qua cos'è che me l'ho scritto ecco anche il tema dell'esplosione ecco qui ci vedo anche questa esplosione cioè il fatto che la torre non è che esploda per come dire per aver accumulato troppe cose dentro per averci tenuto per esserci tenuto dentro troppe cose ma anche perché un evento apparentemente esteriore ci porta ad un'esplosione emotiva incredibile e il bello è che sembra che questa esplosione venga da fuori sia ispirata da un evento apparentemente esteriore ma come il grande Jung ci insegna tutto ciò che è esteriore in realtà è una materializzazione diciamo così del nostro inconscio che non abbiamo saputo ascoltare e quindi abbiamo bisogno di un fenomeno esterno che ci faccia capire in realtà quanto sia tutto riportato ad una dimensione interiore infatti Barbara dice una bella liberazione potente è questo questo gesto quindi immaginiamoci se prima è avvenuta questa esplosione e come dire siamo passati nella nostra vita nello stadio 16 il 17 ci fa proprio mettere la parola bella rispetto a questa cosa finalmente ci siamo liberati da queste impalcature e siamo più a contatto con la naturalezza o comunque con la completezza perché nel mio caso personale badate bene che il mio luogo magico non è solo bucolico non è solo natura verdeggiante e consolatrice ma c'è comunque anche l'aspetto anche cupo vi parlavo di questi scenari urbani comunque credo di aver capito che nella mia totalità ci deve essere anche quella componente se volete legata al mistero all'arte alla vita notturna o alle atmosfere più più introspettive e più misteriose l'altra parola che mi ero segnato ecco quando è che quando è che avviene anche la situazione 16 ho detta in altro modo se noi abbiamo dovuto avere un sogno ispirato al tema 17 quindi ci ritroviamo in un luogo magico che guarda a caso non è mai a casa non è mai a casa proprio questi luoghi magici sono spesso in località esotiche oppure in altre nazioni o in luoghi che noi non siamo abituati a frequentare nel quotidiano e in questo c'è iscritto il tema della dinamica tipica del set che ritroviamo anche nel carro cioè l'idea che questo paradiso terrestre lo troviamo sempre lontano da casa più o meno fuori di metafora vuol dire che il nostro paradiso terrestre richiede comunque una missione nel mondo che sia fuori dal quotidiano fuori dall'ordinario ci dobbiamo muovere e lo dico a me perché sono un gran poltronaro in questo senso lascia pure che c'è stato anche il tema della ridotta mobilità però generalmente io ahimè sono anche molto viaggio molto con la mente ecco ma non viaggio tantissimo sul piano terrestre quindi questi luoghi magici vogliono secondo me anche agire da stella cioè invitarci a metterci in moto in qualche modo poi tu sognatore dovrai capire in che modo effettivamente metterti in moto se con un viaggio vero e proprio oppure se con una dinamica che ti riaccenda la voglia la curiosità di apprezzare la magia che non è mai in casa non è mai qua a casa non trovi mai niente a casa trovi solo l'ordinario l'eroe in qualunque mito diventa eroe o comunque la saga lo porta sempre a realizzarsi lontano dal suo nido domestico o diciamo più banalmente lontano dal proprio domicilio e allora il 16 ha anche questa espressione cioè il 4 sapete cioè l'arcano 16 io lo vedo anche come un imperatore elevato alla quarta quindi imperatore 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 neanche per quattro volte ma proprio sì no per quattro 4 per 4 fa 16 quindi come a dire che se tu agisci troppo sul piano imperatoriale e quindi stai lì sicuro del tuo dominio ma seduto statico proprio perché il 4 è come voler fare rotolare una ruota quadrata fai fatica se poi questo stadio questa 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 ruota è replicata per quattro mi immagino proprio un'automobile con quattro ruote quadrate valla a muovere cioè neanche i Flintstones potrebbe potrebbero metterla in movimento quindi a dire distruggi quella cavolo di torre alzati in piedi e vai a goderti a e a pregustare questo paradiso mi viene tra l'altro in mente una cosa molto bella che dice la Von Franz in un libro che come al solito si trova solo in inglese si chiama Fairy Tales mi sembra e in pratica lei analizza varie favole e dice spesso in queste favole le più antiche le più tradizionali il protagonista della favola si trova in una situazione dove proprio all'inizio della favola sperimenta il tesoro cioè trova in anticipo il tesoro che poi lo lo riuscirà a trovare alla fine della sua vicenda fiabesca cioè è come se l'eroe già all'inizio pregusta questo paradiso questa stella questo luogo di meraviglia o questo tesoro e perché succede questo perché dice la Von Franz ti fa questo giochetto l'inconscio perché proprio perché ti fa vedere questa meraviglia che tu poi sei disposto a metterti in moto per andare a raggiungerlo e lei riportandola al lavoro suo proprio di terapia con i pazienti dice è vero è così cioè anche io riscontro dice lei che per far sì che si scateni una dinamica interiore che ti porti allo stadio 17 devi prima pregustarne un pezzettino di tesoro infatti all'interno della delle fiabe questo tesoro iniziale gli viene sottratto gli viene cioè l'eroe ha un barlume breve di questo paradiso che poi gli viene portato ma è per quello che si mette in moto il tema dell'eroe della dinamica ancora una volta è insito nel 7 nella dinamica del 7 ok allora io credo di aver detto tutto mi ero segnato un'altra cosina ma posso anche tenermela per me ma no vabbè dai condividiamo condividiamo mi ero segnato questo aspetto questa citazione che mi sembra faccia chi è che la fa mi sono scritto Cipollina tu mi fai le cose imprecise però tu non mi puoi far trovare degli appunti così che non si legge e non mi scrivi neanche da dove proviene vabbè vabbè è sempre lei la mia assistente Cipollina comunque sia la citazione è questa di questi testi buddisti che parlano di questi arhat la citazione dice gli arhat che volano in aria spezzando il tetto del palazzo qual è l'idea collegata al 16 chi sono gli arhat sono diciamo gli illuminati coloro che hanno raggiunto l'illuminazione e sono un po' come dei Buddha in questo senso e gli arhat fanno questo cioè gli arhat non possono essere attaccati ad un involucro devono spezzare il tetto della casa cioè l'illuminazione coincide con l'idea di spezzare il tetto della casa proprio come avviene con questo scoperchiamento e riportandolo un po' nel nostro quotidiano io lo vedo di nuovo come un invito ad abbandonare la nostra casa la nostra imperatoresca reggia per quanto imperatoresca si possa definire per metterci in moto ispirati da questo dinamismo del 7 e da questa magia che evoca ok va bene ho detto tutto ciao Barbara benvenuta sto finendo testè la diretta però poi se vuoi c'è registrata allora rinnovo il mio invito se volete 12 maggio mercoledì sera c'è questo seminario mandatevi un messaggio perché se se vi interessa vi vi invierò il link per per partecipare è un webinar gratuito della durata di circa due ore e dico circa sottolineato perché sapete che io con la gestione del tempo sono molto scarso per cui ecco se vi interessa scrivetemi in privato o fornitemi la vostra email così vi invierò il link per partecipare grazie mille buona serata buon giovedì sera e buon weekend che inizia domani ciao Barbara ciao a tutte alla prossima alla prossima au revoir au revoir ciao a tutti